si ripala verso hai visto? saremovi idee fai tempo a cambiare idee ancora nelle ultime due ore il lupo del bisbino colpito ancora adesso vediamo dai il trapone un trapone e allora bravo bravo grazie grazie adesso lo stai finisce in acqua eh ok 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 eh ma contro luce non mi vede ma va ma vedo la sagoma è abbastanza quella tanto per fare un surplus così è riappoggiato sicuro un surplus così è riappoggiato sicuro un surplus così è riappoggiato sicuro